salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video faccio questo veloce video su enotria riguardante il respect delle virtù perché ho visto che sono andati un sacco di commenti e molti non capivano come fare il respect delle virtù che sarebbe fondamentalmente il respect delle statistiche che si può fare nel gioco giustamente moltissimi si sono ritrovati con questo oggetto che sarebbe la treccia di fanciulla recisa dato che l'oggetto dice che è appunto un materiale prezioso utilizzabile per ripristinare la virtù solo che come vedete in basso l'usa è grigio e non si capisce bene come si dovrebbe usare tra l'altro è un oggetto chiave non è un consumabile e effettivamente anch'io non ci ho capito un cazzo quindi se qualcuno sa come usarlo me lo faccia sapere ma in realtà c'è un altro metodo per rispeccare infatti se battete delta che lei vi spawnerà qui dove c'è lab cioè nel teatro ok qua sotto qua siamo nel teatro hub principale scendete qui c'è una stanza vuota dopo che avete ucciso questo boss la dea della guerra affamata di carneficina e mai sazia esatto proprio lei e possiamo parlare con lei oppure abbiamo rinascita rinascita è letteralmente il respect e ho fatto un test prima è gratuito perché non mi ha consumato la treccia per dire quindi è gratuito rimettete i punti come volete voi e poi confermate easy la cosa meno easy è battere lei però perché è uno dei boss più forti del gioco si trova circa a metà del secondo atto è praticamente sicuro che incontrerete la sua breccia anche perché entrerete nella sua stanza c'è appunto una breccia rossa l'aprite e c'è questa boss fight è appunto una delle più difficili probabilmente molto difficile batterla nel momento che l'ha incontrata per la prima volta molto più facile batterla in un secondo momento verso fine gioco comunque se riuscite a batterla lei respawna qui nel lab ed è free respect quindi abbiamo risolto il problema se qualcuno sa come usare la fottuta treccia magari però sarebbe utile farlo sapere a tutti quanti vi lascio in coda la boss fight che ho fatto anche se nel new game plus e anche se con questa build super rotta che comunque trovate in un altro video così almeno capite esattamente dov'è e come combatterla vabbè con questa build è molto più semplice ricordate che sono nel new game plus però detto questo finisco quel video spero che sia stato utile buon proseguimento statemi bene come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like se volete iscrivetevi ci becchiamo alla prossima ciao ciao bestia l'acqua è compiuto iscrivetevi ci becchiamo al prossima 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 Grazie a tutti.